Mi sentite? Funziona? Funziona? Sì. Mi dite quando inizio? Buonasera, benvenuti, siete tanti, sono contenta e mi fa piacere accogliervi per questo primo appuntamento di Invisita, un nuovo programma a cadenza semestrale che prevede l'esposizione temporanea di uno o più opere provenienti da collezioni nazionali e internazionali all'interno del percorso permanente delle collezioni del Novecento qui a Palazzo dei Rossi. È un programma a cui tengo molto perché permette di avere un approccio attivo e non statico nei confronti delle collezioni. A lato del percorso permanente, o stabile, il permanente non esiste, ci saranno altre novità, comunque a lato del percorso permanente che è stato ammirabilmente curato da Anna Maria Iacuzzi, curatrice delle collezioni del Novecento di Pistoia Musei, si tratta di attivare riflessioni, relazioni, sguardi nuovi e anche approfondimenti di studio. Per questa prima edizione, le due core in ceramica di Fausto Melotti, provenienti da collezioni private, ci sono sembrate le opere più adatte per incontrare la pomona in pietra di Marino Marini, un'opera importante che ha segnato l'inizio della raccolta del Novecento Pistoiese della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, oggi intesa a San Paolo, e che Pistoia Musei ha ricevuto incomodato. E Anna Maria Iacuzzi poi vi dirà come abbiamo introdotto nel percorso delle collezioni del Novecento questa importante scultura. Come vedrete queste opere di due dei più grandi artisti del Novecento, artisti o scultori comunque del Novecento italiano, nonostante i loro linguaggi diversi, dialogano per il comune retrotraire mitologico dei tempi raffigurati, core e pomona, legati ai grandi miti mediterranei dell'alternarsi delle stagioni, della madre terra, ma anche attraverso le forme e i materiali. Vorrei dirvi che questa iniziativa nasce anche, forse soprattutto, da un'idea curatoriale che si è proposta come un laboratorio di progettazione in dialogo con diverse professionalità. Non soltanto la curatella scientifica, che ho assicurato insieme a Anna Maria Iacuzzi, che ringrazio come sempre per la sapiente e generosa collaborazione, ma anche la progettazione di uno spazio che rispondesse alla nostra necessità di espandere la superficie disponibile delle sale espositive. Un progetto che abbiamo realizzato grazie alla collaborazione di PanStudio e degli architetti Cesare e Carlotta Mari. Abbiamo realizzato una camera di espansione, come l'abbiamo chiamata, che accoglierà anche i prossimi appuntamenti di invisita, con la possibilità anche di invadere gli spazi circostanti fino all'esterno, come già annunciato anche dall'apertura della terrazza del Grandorio, dove vi invitiamo poi per un brindisi, dopo aver visto il nuovo allestimento in visita, e che è quindi uno spazio all'aperto che grazie al sostegno della Fondazione Cari PT abbiamo potuto rendere di accesso pubblico e aperto al pubblico, ai cittadini, anche durante la giornata. La progettazione ha investito anche il prodotto editoriale, che abbiamo pensato insieme agli editori Maurizio Otello e Enrico Raveni, della casa editrice Liori, e avete potuto forse già vedere l'oggetto che abbiamo pensato per questa, sarà una serie per questi programmi in visita. È un volume piccolo, ma prezioso, un libro oggetto da collezionare, tanto per il suo valore estetico che per il contenuto dei testi e delle immagini. Per la parte grafica del progetto abbiamo collaborato con Cristiano Coppi, fondatore dell'Agenzia di Design e Comunicazione Metilene, che ci ha aiutato anche questa volta col suo consueto brio. Avete visto anche il logo e il pannello che ci ha colto all'ingresso. Nella stessa ottica curatoriale, in visita, ospita non soltanto opere, ma anche voci critiche, a fornire letture personali, non necessariamente storico-artistiche. In questa prima edizione abbiamo coinvolto Eva Fabris, che ascolteremo tra poco in dialogo con Pierpaolo Tamburelli, e che ha arricchito il libro con un contributo dedicato alle core di Fausto Melotti, all'interno dell'attività ceramica dell'artista, che in questo settore collaborò con alcuni importanti architetti degli anni 50. E questo è un tema che abbiamo voluto approfondire in occasione di questo Invisita. L'occasione di Invisita, appunto, mi ha offerto anche l'opportunità di andare io stessa in visita sulle tracce di Fausto Melotti alla fattoria di Celle, dove ho potuto raccogliere la testimonianza preziosissima della lunga e ricca amicizia di Giuliano Gori, che ringrazio di essere tra noi oggi, amicizia lunga, appunto, e ricca con l'artista, come potrete leggere nel libro. Un terzo agile contributo, a firma di Anna Maria Iacuzzi, porta alla luce alcuni momenti di contatto di Melotti con la città e i suoi artisti, tra i quali uno dei più alti è appunto quello con Giuliano Gori e con la fattoria di Celle. Devo naturalmente ricordare, e non per ultimo, il fondamentale contributo al progetto della Fondazione Melotti di Milano, in particolare di Marta Melotti e di Rudy Cerri, che purtroppo oggi non possono essere con noi, ma ci verranno a trovare, sono adesso a Londra, ma che ci hanno supportato in tutte le fasi di elaborazione del progetto. Mi fa sempre piacere ringraziare tutto il team di Pistoia Musei, che mi sostiene nelle mie incessanti, e lo devo ammettere forse un po' troppo incalzanti mi si dice, programmazioni, ringrazio in questo caso in particolare per la sua tenacia instancabile la nostra registra Rebecca Romere, Rachele Butelli, per seguire in maniera sempre attenta e professionale la nostra comunicazione, e ovviamente Elena Ciompi per la segreteria organizzativa. Senza più tardare vorrei adesso dare la parola ai nostri invitati, li presento brevemente prima di invitarli a venire a raggiungerci. Eva Fabris è exhibition curator alla Fondazione Prada di Milano, accanto a questo suo impegno continua a sviluppare un'attività di curatrice e storica dell'arte indipendente, come curatore indipendente ha curato e organizzato mostre e convegni in istituzioni italiane e europee, tra cui il Nouveau Musée Nationale de Monaco, la Triennale di Milano, la Fondazione Mora di Napoli e la Gallerie de l'Erg di Bruxelles. Tra le mostre da lei curate, ricordo qui soltanto la retrospettiva dedicata appunto a Fausto Melotti, co-curata con Cristiano Raimondi al Nouveau Musée Nationale de Monaco nel 2016, con un allestimento concepito dallo studio di architettura BauQ, fondato da Pier Paolo Tamburelli e da Walter Schelsi. Pier Paolo Tamburelli oggi è qui con noi, lo ringrazio moltissimo di aver accettato il nostro invito a partecipare a questa conversazione, è professore di teoria del progetto al Politecnico di Vienna, dopo aver insegnato a Harvard, a Chicago e al Politecnico di Milano. Accanto al suo impegno accademico, Pier Paolo Tamburelli è brillante architetto, scrittore e editore. Lo studio di architettura BauQ, che ha fondato, tra gli altri progetti, ha completato la Casa della Memoria di Milano, sta restaurando la Seminar School di Oxtraten e la città studentesca di Tirana e ha recentemente vinto il concorso per la nuova biblioteca europea di cultura a Milano. Come editore ha fondato l'importante rivista di architettura San Rocco e, lo ricordo qui anche se è fuori tema, però mi ha incuriosito, nel 2022 ha pubblicato quindi recentemente Ombra Mante per la mia IT Press, un libro su uno dei maggiori architetti del Rinascimento visti in chiave contemporanea. Ma torniamo a Melotti, adesso invito i nostri due conferenzieri a raggiungerci e do la parola per prima a Eva Fabris, che ci introdurrà alla lettura dell'opera ceramica di Melotti. Grazie Monica. Buonasera a tutti. È veramente un piacere essere qui, è un piacere avere l'occasione di vedere due sculture straordinarie, come le core che sono state installate nel percorso di invisita descritto dalla dottoressa Preti. Ed è stato un piacere iniziare il dialogo con Pistoia Musei a partire da una fotografia che credo comparirà tra un attimo, che ha incuriosito sia... Proprio la prima, la riconoscete perché è veramente emblematica. Ha incuriosito la dottoressa Preti e la dottoressa Iacuzzi, aveva incuriosito Cristiano Raimondi ed io quando abbiamo curato... Eccola! Quando abbiamo curato la mostra di cui parlava la dottoressa, ha incuriosito lo studio Baucu quando si è avvicinato al tema di come esporre un artista come Fausto Melotti in un periodo come quello tra la metà degli anni 40 e la fine degli anni 50 in cui il suo focus operativo è sul materiale ceramico. Ne parleremo, ma intanto vorrei partire da qui. Vorrei partire da questa fotografia che è la copertina del numero di dicembre della rivista Life, dicembre 61 della rivista Life. Nel 59 Gio Ponti aveva ultimato l'ambiente in cui è stata scattata. Si tratta del terminal, loro lo chiamavano terminal, potremmo dire il luogo di rappresentanza nella città di New York, a Manhattan, di Alitalia. Come faceva spesso, come era il cuore della sua pratica architettonica e progettuale di quel periodo, Ponti non affronta l'oggetto architettonico da solo, ma arriva in città con una piccola corazza ceramica, con una compagine di coautori che è quello che lo accompagna da alcuni anni a questa parte nella sua versione del modernismo che prevede una dialogicità tra le arti. Quando uno delle armi che Ponti crea per raccontare, sviluppare, diffondere questo modernismo è la rivista Domus, che lui aveva fondato nel 28, che poi per un po' abbandona, che torna a dirigere nel 44, accompagnato straordinariamente dalla figlia Lisa Ponti, una delle penne critiche sull'arte e l'architettura di quel periodo, che è ancora completamente da riscoprire. e nelle pagine di Domus, oltre a dare spazio a colleghi e a incursioni sulle arti visive, nonché su musica, design, fotografia, e appunto incarnando e mettendo in pagina questo discorso transdisciplinare architettonico, racconta le motivazioni delle istanze suscitate dai suoi progetti. Quando parla di questa sede all'Italia, questa è proprio la pagina dell'articolo, qui siamo passati in Domus, ne racconta appunto le motivazioni, gli spunti, e parla di due poli. Portare la ceramica a New York, un ambiente fatto di ceramica, significa usare quello spazio con una funzionalità attrattiva, attrattiva intendendo la volontà di usare qualcosa di unico, non c'erano spazi eminentemente sviluppati in ceramica a New York, nella città di New York, e insieme a questa funzionalità attrattiva c'è una funzionalità rappresentativa. La ceramica può rappresentare l'italianità. Assieme a questi due spunti teorici, direi quasi strategici, c'è anche un aspetto più operativo e se vogliamo anche umano. Melotti si dice pronto, scusatemi, Ponti si dice pronto ad affrontare quello spazio perché c'è ormai una consuetudine di spirito, di operatività e di affetto, scrive Ponti, con un autore che è appunto Melotti, con cui in quel periodo, qui vediamo la Villa Planchard, che i due avevano fatto insieme, terminata nel 57 a Caracas, che i due avevano messo a punto nel giro di anni tra l'inizio degli anni 50 e la fine degli anni 60 dialogando su superfici, movimenti e, per entrare in parole più care a Melotti, ritmi, vuoti, poesia, ripensamento del mito, ripensamento della funzione, della forma. E quindi, in qualche modo, parlare delle core di Melotti significa anche andare a riscoprire, come aveva fatto proprio il fotografo che ha bloccato nell'immagine che sta nella copertina di Life, andare a riscoprire un momento in cui Melotti è se stesso in una maniera che prelude il grande discorso scultorio degli anni 60, 70, 80, quello che conosciamo, per esempio, qui vicino, nelle opere collezionate nella fattoria di Celle e spesso troviamo all'esterno di musei e luoghi pubblici, quel Melotti ritmico che ritrova la figura attraverso l'immaterialità del segno, della sottigliezza, del rigore, pur con il riferimento fisiognomico quasi al mito, quel Melotti ha un periodo di pausa, ha un periodo in cui la sua produzione è quasi solo eminentemente ceramica e il compagno di strada di quel momento è Gio Ponti. A questo periodo abbiamo dedicato la mostra di Monte Carlo ed è quindi il momento che più abbiamo affrontato dialogicamente con Pierpaolo e quindi vorrei chiedere a lui, prima di addentrarci nel racconto di questa decada ceramica melottiana, vorrei chiedere a lui il suo punto di vista più pontiano, più architettonico, questo l'abbiamo detto prima, forse si può definire un piccolo breve rinascimento di cui Melotti e Ponti fanno parte, dal punto di vista di Ponti. Buonasera, anzitutto grazie per avermi invitato qui, io in questa seconda occasione, che è per me la seconda occasione di confronto con Melotti, un pochino meglio che nella prima, ma in generale rimango discretamente un dilettante rispetto alla questione, cioè non sono uno specialista di Melotti, ma non sono neanche uno specialista di Ponti, perché mi è capitato di studiare più che altro altre cose. Quello che secondo me è impressionante dell'immagine che vedevamo all'inizio della rivista Life è questa capacità di Ponti di essere proprio impresario a 360 gradi, cioè di affrontare il lavoro, portarsi i collaboratori, portarsi anche i produttori, perché il rapporto di Ponti con la ceramica è anche un rapporto produttivo con un'azienda, con un nome ben preciso che è la Richard G. Nori, e quindi intendere la sua arte, l'architettura, allo stesso tempo in maniera quasi esagerata, quasi proprio come Gesamtkunstwerk, ma dall'altro punto di vista, anche in maniera molto terra-terra come imprenditore che deve anche piazzare delle piastrelle dell'azienda con cui è solito collaborare. Questo lavoro trova in quel momento una sintesi molto felice di, come dire, tra cultura alta e cultura bassa, che secondo me caratterizza quel momento della storia della cultura italiana, che è anche un momento molto conflittuale, perché per esempio in questa carrellata di immagini compare un allestimento a cui partecipa Melotti per un progetto di BBPR e ad esempio Melotti collabora sia con BBPR che con Ponti che sono sostanzialmente i capostipiti di due partiti ferocemente nemici nella storia dell'architettura di quel periodo, al punto che a un certo punto Ponti viene sostanzialmente espulso da Domus, credo, non sono sicuro per ragioni politiche proprio, nel momento della resistenza e poi dell'Italia immediatamente post-unitaria, per un brevissimo periodo è appunto Rogers a dirigere Domus, dopodiché Ponti torna a dirigere Domus e Rogers passa a dirigere Casabella, che ha un'opinione anche molto negativa di quel modo di fare, molto professionale di Ponti e di quel mondo. Se posso dire una cosa, mi sembra una situazione quasi ideale vista col senno di poi, in cui questo conflitto e questa competizione in qualche modo stimolava entrambi i soggetti che si fronteggiavano, diciamo, e che non impediva queste collaborazioni, perché alla fine vediamo che Melotti lavora con uno, lavora con l'altro, alla fine c'era un grandissimo scontro, ma c'era anche una grandissima capacità di imparare gli uni dagli altri e di scambiarsi di ruolo, cioè scambiare produzione alta con produzione bassa, scambiare anche a volte alleanza di partito e produrre da tutto questo una immagine di modernità che secondo me non a caso era attraente anche al di fuori dell'Italia. Era attraente perché era una immagine enormemente complessa e quindi affascinante, quindi anche difficile da decifrare per Life, che non necessariamente capisce tutto quello che è cosa, ma non è forse neanche quel gran problema, e che consente a quel momento dell'architettura italiana di avere un peso a livello internazionale che poi dopo gli anni, diciamo così, dopo gli anni Ottanta non ha più avuto. E quella stagione lì, che secondo me è molto più da vedere unitariamente, cioè dal secondo dopoguerra fino agli anni Ottanta, perché poi chi fa la storia di quel periodo sono tutte persone che sono formate con Rogers come Rossi, come Gregotti, come Aimonino e che quindi trovano la fondazione del proprio progetto culturale in quel momento dell'architettura italiana, del dopoguerra, tutto questo costruisce una stagione veramente estremamente interessante, a cui forse possiamo tornare a guardare anche con un po' di distacco, perché comunque a un certo punto queste cose sono passate, cose che ancora quando io e lei studiavamo c'erano ancora tutte le ultimissime faide di quella vicenda lì, ancora in atto, ma adesso è proprio tutto finito. E quindi forse si può tornare ad osservare questo mondo con una grande apertura, con grande curiosità, ma anche con una certa leggerezza. Sì, quando dici faide mi viene in mente il commento con cui Carlo Carrà accolse la prima personale di Melotti al milione, lapidario, è intelligente ma non è scura. Quindi diciamo che il futurismo di fronte alla proposta astratta, che di lì a poco aprirà gli occhi verso il movimento Abstrazione-Creation di questo sguardo che hanno Melotti e Fontana insieme, effettivamente viene ricevuto con una certa frizione. Per raccontare questo Melotti, nell'ottica che tu dici Pierpaolo di cultura alta e cultura bassa, che si parlano, che non si scandalizzano se una modella si appoggia col gomito sulla testa di una natura oltre la bellezza, oltre il canone, perché non si sa dove sia la bellezza in quella complessità. E quindi tutto può succedere. Quindi non si sa se è più fragrante l'abito della modella o la ceramica modellata da Melotti. Quel 1935 è fondamentale per Melotti, questa mostra al milione del suo primo astrattismo, questo astrattismo, prima parlavo di geometria e ritmo, ma musica, lui, suo nipote è Pollini, lui arriva a quella mostra che già collabora con Gio Ponti, che l'ha chiamato nel 30 alla Ginori come disegnatore progettista. Aveva, era diplomato all'Accademia da un anno, si era diplomato nel 29, doveva studiato con Lucio Fontana, compagno di studi, che rimane amico di una vita, con Adolfo Wilt come maestro. Quindi, se pensiamo ai milanesi per un attimo all'orecchio, che non si sa se è veramente di Wilt, ma insomma si dice che sia una delle sue opere più famose, è in realtà un campanello. Cioè, questa cultura alta e bassa ce lo insegna proprio quel periodo lì, a, in particolare, squisitamente, a Milano, a non dover decidere dove sta il confine. Vi dicevo, mostra astratta al milione del 35, va bene, ma non benissimo, forse anche è complice questa stroncatura di Carrà, che era uno quasi, in quel momento, più affermato come critico, tanto quanto, esageriamo, tanto quanto. E la Sala della Coerenza con il BPR viene l'anno dopo, quindi parliamo di un artista protagonista, giovane, ma protagonista di una scena che culturalmente è in espansione, nella temperie politica di quel momento. ma questa corsa che non vuole ancora scegliere tra astrazione e figurazione, per parlare di un altro contrapposto che riemergerà politicamente nel dopoguerra, subisce con Melotti una battuta d'arresto violenta con la guerra e con la distruzione del suo studio, con un bombardamento, lo studio di Pia Leopardi, 26, dove tornerà per ricostruirlo, ma tornerà come ceramista. Nel 45 apre uno studio che non è lo studio di un artista, è lo studio di un ceramista, abbiamo esposto a Monte Carlo, abbiamo trovato, grazie alla Fondazione Melotti, negli archivi degli stupendi materiali, pubblicitari, a tutti gli effetti. Non solo la Ginori era una realtà produttiva, ma lo studio Melotti era un luogo in cui sia gli architetti, ma anche i borghesi innamorati di questo nuovo stile andavano a ordinarsi le tazzine, delle perle per fare delle collane, i meravigliosi caminetti. Tutto questo dura dalla metà degli anni 40 fino all'inizio degli anni 60. Quello che è straordinario però è che Melotti sceglie questa strada, anche di mantenimento, di supporto economico ad un'esistenza, decidendo di non tornare alla scultura come scultura. Lui ne parlerà, spiegherà le ragioni di questo non ritorno immediato, nelle pagine di Domus, con due articoli, perché se ci sono delle occasioni espositive, ricordava la dottoressa Iacuzzi nell'ultimo testo del Librino, che nel 50, una ceramica bellissima che la lettera a Fontana è esposta alla Biennale di Venezia, qualcosa c'è, ma lui non organizza mostre, lui non si fa vedere come artista. Qualcuno però bussa alla sua porta e mostra immagini scattate nello studio. Questo qualcuno è Domus, probabilmente, nello specifico, nella figura di Lisa Ponti, che citavo prima. E attraverso le sue parole, attraverso soltanto le immagini immagini che in Domus vengono pubblicate, noi e il pubblico di allora conosce l'attività di Melotti. Ci sono piastrelle, ci sono caminetti, ci sono tazzine, ci sono sculturette, giochi, scherzi. Lui non li vuole definire. Lisa, che spesso è la redattrice di questi articoli, neanche rispetta questa lontananza dalla necessità di assestare il tema io faccio scultura. E lo accompagna. Spesso, nelle fotografie, scelte dalla redazione di Domus, compaiono le core, che sono effettivamente uno dei punti più alti di questo momento ceramico. Certo, lo sono nella nostra sensibilità, ma quello che è straordinario e che si coglie in tutte le fotografie di questo periodo, compresa quella di Life, con cui abbiamo iniziato, è che sono quasi mimetiche se tu le metti sullo sfondo di una, se metti a loro come sfondo una parete di ceramica. perché le stampigliature sono le stesse che decorano le gonne, sono le stesse con cui Melotti decorava le piastre. Il gioco di smalti è lo stesso con cui Melotti sfidava ogni giorno la sua muffola nello studio di Via Leopardi. Quindi, in realtà, c'è un desiderio molto contemporaneo di non scegliere tra questa è una scultura e questa no. E questo è il laccio più forte verso il presente che, a mio avviso, delle sculture del genere propongono nello sguardo della contemporaneità. Parlavo dello studio, della muffola, del forno, e volevo solo ricordare quanto il suo appunto compagno di studi, Fontana, andasse spesso a stimolarlo e gli chiedesse di andare a provare i forni di Albistola. Dice, ma tu, guarda cosa riesci a tirar fuori da questa tua muffolina, pensa a cosa faresti se avessi a disposizione delle maestranze. ma lui non accettò mai e pensate che per Fontana essere albisola voleva dire frequentare Asgeriorna, quindi voleva dire non solo la conoscenza e l'evoluzione dello studio della materia, ma voleva anche dire contesto. Per Melotti questo è un momento in cui il discorso è fra sé e sé. Per questo, come tu dici, Ponti è l'impresario che riesce a tirarlo fuori. Marta Melotti ricordata da Monica è molto franca nel raccontarlo. Se non ci fosse riuscito Gio Ponti non ci sarebbe riuscito nessuno in quello specifico momento lì. Infatti vanno assieme a Teheran per Villanemazè, vanno insieme a Caracas. A New York non andò, pare. A New York non andò. Quindi ecco, forse questo rispetto al punto che tu dicevi oggi quella frizione è finita ma è rimasta una propagine di capacità di sguardo sulla continuità tra cultura alta e cultura bassa che perlomeno per la cultura milanese, italiana del design che così si è espansa in quel momento forse può parlare oggi. Sicuramente. Secondo me il problema attuale è più la mancanza della cultura alta che la mancanza della cultura bassa. La cultura bassa grazie a Dio almeno quella c'è quanto meno a Milano. Sì, no, dico una cosa più banale sul problema che è stato per noi allestire questi oggetti quando abbiamo allestito la mostra di Monte Carlo che era sei o sette anni fa. 15-6, nel 15 l'abbiamo aperta. E appunto si trattava di mettere in scena degli oggetti molto fragili, molto gracili e anche degli oggetti che appunto definivano la loro ambizione di opera d'arte a partire da questa fragilità. cioè non si trattava di opere incredibilmente perentorie, pesanti, cioè non sono la pomona di Marini che in un certo senso è molto più facile da esporre perché di per sé ha già tutta la sua presenza. E questo per noi era anche abbastanza una sfida a livello personale nostro di cercare di trovare un registro molto più dolce, più fragile che in un certo senso è una dimensione del nostro lavoro abbastanza non voglio dire secondaria però non è quella immediata cioè noi facciamo molto più tendenzialmente gli architetti che non gli allestitori e lavoriamo con una con un immaginario tutto sommato anche abbastanza solido anche abbastanza greve e in questo caso invece era completamente fuori luogo quindi bisognava essere molto più dolci di quanto non siamo di solito essere molto più capaci di lasciar vedere la gentilezza di questi oggetti cioè si trattava di costruire un involucro che mettesse in scena queste cose che non solo non rubasse la scena ma che almeno in parte condividesse questo registro e questa cosa è stata fatta con questi telai che vedete e con il sistema di specchi costruito alle spalle di una specie di grande pomo su cui appoggiare tutte queste sculture che a tratti sono anche proprio vasetti grandi così e in certo senso devono rimanere cioè non devono assumere un'importanza esagerata perché li distruggerebbe in certo senso e decidemmo di mettere la core che avevamo noi insieme a loro sì 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 e anche in un certo senso di ridurre per certi aspetti l'ambizione dell'oggetto per ricondurlo alla famiglia e per mostrarne la qualità in quel contesto poi se ci siamo riusciti o no non sta a me deciderlo però è stato molto interessante perché per noi è stato il primo di questi lavori di allestimento poi dopo di quello ne abbiamo fatti forse anche per quello ed è stato un modo di lavorare con degli strumenti abbastanza nuovi per noi ed estremamente interessante vedete che si tratta di tavoli abbastanza semplici in legno con dei parallelepipedi di plexiglass che che proteggono i quelle sono copie di domus se non sbaglio che possono essere potevano essere lette sotto trasparenti mentre invece questi teatrini forse c'è un nome questi teatrini venivano presentati semplicemente su questi basamenti su queste mensole per cui cercando veramente di costruire questa atmosfera molto molto garbata che che un po' mi sorprende conoscendo noi stessi ma che forse anche è riuscita in quel caso se vogliamo tornare indietro di tre immagini per favore però c'è una precedente che avete preso abbastanza di petto che è questo e il precedente era qui torniamo nelle pagine del numero di live rimaniamo fermi per favore su questa immagine questa è Torino 61 una grandissima manifestazione organizzata all'interno di un edificio di Pierluigi Nervi in cui Gioponti ha di nuovo un ruolo che è quello di ordinatore generale credo che oggi diremmo curatore è una manifestazione fatta per celebrare il centenario dell'unità d'Italia e chiede a Melotti un contributo mastodontico in questo caso per il suo commento sull'evoluzione della forma nell'artigianato Melotti realizzò 800 piastre 50x70 ed è quasi direi una delle battute finali di questo suo periodo ceramico in questa serie in questo momento di attenzione che ha Domus nei confronti di Melotti che risale ai 10 anni 10-15 anni precedenti quelli in cui Melotti è puramente ceramista il periodo più o meno si conclude con due articoli pubblicati nel 62 e nel 63 il primo si intitola sculture astratte del 1935 e del 1962 ed è a firma di Melotti stesso il secondo si intitola ancora più dolcemente per riprendere un aggettivo l'incertezza ed è bellissimo come Ponti oi li scambio Melotti in questi due articoli abbia scelto di raccontare cosa è successo nel quindicennio precedente il quindicennio ceramico sostanzialmente lui dice che all'indomani della guerra questa necessità del neonato sistema dell'arte di affermare un'identità certa cristallizzata lo stile quando lui è cresciuto nel 1935 la discussione in Italia era molto se dovesse o meno esserci uno stile fascista quindi probabilmente anche questa idea dello stile gli dava una certa angoscia ma è lui stesso che dice io non posso scegliere non voglio scegliere con quello che è successo nel mondo io ho avuto bisogno di una pausa quasi di libertà questa libertà che probabilmente era anche un gioco sull'imprevisto perché ci sono dei commenti bellissimi che lui fa su come la materia sia la ceramica sia una materia da domare su come la risposta degli smalti lasci spazio all'imprevisto ed è sorprende trovare tale passione per l'imprevisto in un artista che conosciamo poi nei decenni successivi e abbiamo visto nella fase pre-guerra basare la sua ricerca plastica sulla geometria sul ritmo sulla ripetizione su per usare un titolo che tornerà la sua produzione temi e variazioni in temi e variazioni l'imprevisto non dovrebbe avere spazio e invece c'è questo questo luogo questo momento questo quindicennio ceramico in cui l'imprevisto e la la fusione appunto oggettuale oggettuale e scultorea lasciano sono lasciati a 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 non è la parola che ci viene in mente quando guardiamo le core sono delle piccole autorità la core poi è nella mitologia classica che Melotti conosceva benissimo è la figura della rinascita è noto ma lo ripasso il core è l'altro nome di Persephone quindi la figlia di Demetra che viene rapita da ade e portata negli inferi ma Demetra per la disperazione di essere stata separata dalla madre produce niente meno che l'inverno quindi il momento di mancanza di fioritura di mancanza di ma è grazie ad un accordo trovato con ade che esiste l'alternarsi delle stagioni la figlia core starà sei mesi all'anno negli inferi a fianco di ade e in quel periodo il terreno si riposa ma è anche mesto per la mancanza di core Persephone che scorazza con la madre per le terre e al ritorno al riemergere dal regno dei morti si celebra la madre lo celebra con la primavera chissà è forse un po' un po' troppo romantico pensare che Melotti abbia cercato di si sia ingraziato un ritorno di primavera nella sua produzione con queste con queste figure anche perché sono severe sono rigorose la loro struttura si ripete questo triangolo rovesciato che si impunea nel cono regolarissimo della 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 gonna i volti però sono sempre molto espressivi giocano con la con la con la capacità plastica che poi ritroviamo tantissimo negli ottoni nei metalli degli anni e nei materiali effimeri o leggeri degli anni 60 70 80 e 80 di melotti quindi c'è questa questa figura femminile che non vuole decidere di essere nel regno dei morti o nel regno dei vivi non vuole decidere se essere una scultura o un oggetto ecco questo piuttosto direi che potrebbe essere la loro natura vera per quanto riguarda quello che dicevi sulla sulla necessità allessitiva credo che anche che anche qui a Pistoia si sia voluto creare una una nicchia per albergare questa loro decisa autorevolezza che poi si si smaterializza nello smalto e nella e nella nel lucichio delle delle superfici quindi credo forse che ci sia una una risposta che chiamano questo tipo di questo tipo di lavori e questo tipo di di sensazioni materiche suscitate suscitate da queste da queste sculture come siamo con i tempi di di children di la di l'hanno di l'hanno di la di la 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 di la No, concludi tu. No, ho già concluso, era anche un po' poetica. Era per quello, mi sentirei di distruggere tutto se parlo io. Beh, allora parliamo... Noi parliamo più informalmente davanti a loro. Grazie per il vostro contributo. Io sono un po' la madrina di casa e quindi quando si va in visita c'è sempre qualcuno da andare a trovare con cui si dialoga. E l'invito era quello a dire forse qualcosa sulla nostra Pomona, che è effettivamente vero. Pomona è facile ma anche difficile perché lei stessa è una stanza. Pomona ha bisogno di uno spazio intorno a sé, la sua area di rispetto è veramente una stanza. Stacore ha una caverna e in questo piccolo spazio di cui siamo molto contenti c'è uno spazio magico di eco di queste fanciulle. C'è una frase di Melotti che dice che un artista viaggia sempre con le sue immagini, anche quando dorme, anche quando mangia, anche quando va a letto. Sono una schiera di fanciulle che seguono le immagini. Per Marino Pomona è un'immagine che lo segue, un'immagine che non si drammatizza mai. È l'esempio della Mediterraneta. Noi sappiamo dopo la bella mostra di Passioni Invisive che Marino è tornato più volte sul proprio mito e il proprio mito passa dall'America dove invece lui è andato, dove arriva come il messaggero dell'arte occidentale e di un Mediterraneo e di un eco di classicità etrusca che si porta dietro. Questo tema lui lo sviluppa negli anni 30 e tra il 38 e la fine del 50 porta proprio a punto questa iconografia di Pomona che viene da Maiol, viene dalla scultura classica con molte riminiscenze di museo, molte citazioni antiche, arcadiche, cicladiche, quindi un grande collage di passioni visive. Per noi la sollecitazione è stata davvero l'immagine di Life perché laddove Pomona è massiva, pesante, piantata con i piedi per terra, che affonda le proprie radici, i piedi come radici, nel terreno, dall'altra parte, core, che è il simbolo della vita sotterranea, si erge come il seme della primavera che risale. E quindi ci sembrava un bellissimo dialogo. Per noi Pomona è una scultura importante perché è stata il segnale di una volontà molto forte della cassa di risparmio di Pistoia e Pescia nel 1981 o giù di lì, al momento in cui si andava a inaugurare la sede degli uffici, ma anche museale, dell'antico Palazzo dei Vescovi, dove si era voluta non solo la ristrutturazione del palazzo, quindi non solo il recupero delle antiche origini della città di Pistoia, ma anche la valorizzazione dell'arte pistoese, e quindi l'inizio di una raccolta del Novecento pistoese. Quindi in questo allestimento stabile, Pomona che adesso è nelle collezioni di Intesa San Paolo, incomodato alle collezioni del Novecento, è il centro reale delle collezioni. Quindi è uno spartiacque, non solo riafferma la sua importanza, l'importanza di Amarino, come esempio nelle generazioni che si sono alternate a Pistoia e non solo a Pistoia, ma anche è uno spartiacque in un processo tra figurazione e astrazione, quindi sto proprio lì al centro. Queste due sale parallele, dove da un lato c'è un percorso dalla figurazione all'astrazione, che è quello della generazione che noi chiamiamo di mezzo, che è un po' quella che si è formata come marino negli anni venti, e che successivamente, dopo guerra, si avvicina un po' al realismo, ma poi cerca forme libere, quasi verso l'astrazione, dall'altra linguaggi di rinnovamento della grammatica, della non figurazione, scusate, quella a cui poi guardano, quegli autori che guardano poi al Melotti degli anni Trenta, che era stato l'inizio di un percorso dell'astrazione. Quindi l'invito nostro è quello di andare a vedere Core e di immaginarla in questo dialogo ideale con Pomona. La nostra suggestione nasceva proprio dalla copertina di Life. Pensando alla fama che aveva segnato Marino Marini in America, c'è una bellissima copertina di Domus, dove Marino, in un articolo che lo celebra proprio a New York, su Domus, ha alle spalle un bellissimo nudo di una delle sue sculture. Ci siamo immaginate che questi due esempi, Pomona dal lato e Core dall'altro, anche e soprattutto attraverso la lettura dei giornali, delle riviste, questo tipo di lettura, potessero in qualche maniera indicare due esempi di femminilità che si stavano forse dando una staffetta, quindi da un lato le forme calde generative di Pomona, di questa idea definita sempre tusca, ma in realtà italica. dall'altra queste forme di core slanciate che ci fanno quasi venire in mente la donna moderna che si stava, di un modello di femminilità che si stava, che stava cambiando forse. E nell'articolo, e questa è un po', la chiusa un po' buffa, ma forse non troppo, l'articolista dice che negli ultimi anni lo stile italiano ha insegnato a rileggere tutto con occhi nuovi, il modo di vedere il mondo, le macchine, l'abbigliamento, l'arredamento e anche la donna in generale. Ora l'associazione fra donna e abbigliamento, donna e forse le macchine chissà, però forse è anche appunto proprio le due forme che si prestano ad una lettura di una società che sta o stava quasi per cambiare. Grazie. Quindi grazie a voi. Direi certamente di andare nelle sale per andare a incontrare e a delogare queste sculture. Grazie. Grazie. Grazie Eva Fabris e Paolo Famburelli. Grazie per Paolo. Grazie. Grazie.